terzo giorno del nostro viaggio in peru raga siamo arrivati abbiamo sfondato i 3.000 metri ci stiamo dirigendo dopo aver lasciato erikipa verso la vaie del colca ragazzi partiti fin cominciò a sentire l'altitudine perché respiro un po affannato che vista c'è proprio perché ridi così stai? perché Claudio mi fai troppo ridi allora stai stai ridendo perché stai provando questo tè raga che è il tè andino contiene quattro tipologie di erbe adesso non mi ricordo tutto il nome ma c'è la foglia di coca la mugna che è la acqua bianca che è una specie di rosmarino bianco e un'altra non mi ricordo il nome ma tu sai che è buonissimo e fa stra bene per l'altitudine siamo a 4.011 metri adesso 4.000? 4.011 è un rifugio andino molto carino sei contento Stefano? io sono stra contento di essere con te bevi il tè dimmi se è buono bevo il tè con te ma che odore spaziale? odore di mercati di Natale Aleccia si sono andato in questo negozio e finalmente ho sentito un odore natalizio del bancarello in piazza Mazzini Aleccia peruviani allora raga nel frattempo ho cominciato a diventare un po' peruviano però visto che non vi ho saputo dire le erbe dentro il tè andino ecco qua tola blanca che è questa una specie di rosmarino bianco aiuta a deviare per la tosse e per il raffreddore la muna è la mentandina ve l'ho detto e il ciaciacoma che è questo e va bene la ripresa Nick si 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 è molto bella no sto aspettando che guardi quella del sabato sera la ciaciacoma aiuta con i dolori di stomaco e poi c'è la coca che elimina i problemi di altura allora raga la differenza tra lama e alpaca vediamo se indovinate questo è un no ve l'ho spoilerato è un lama per l'appunto il lama è più grande ha il muso più lungo le orecchie più alte e questo è il lama mentre invece l'alpaca vedete questi sono gli alpaca più bassini un po' più tozzi e la cosa strana è che i peruviani mangiano la carne di alpaca ma non quella di lama tutto bene? piano piano guardi che so sputtare anch'io eh 4400 metri si fa fatica è arrivato il momento è tua marcocca però bisogna fare un rituale ci ha insegnato ci dice la nostra guida Alejandro quindi vediamo qual è questo rituale ok questa è la quantità giusta si quant'è la quantità giusta? più o meno 20 fogli di coca si ma voi peruviani si può usare si per tutto credo e poi il pezzettino che abbiamo preso di quel sasso lo mettiamo così e facciamo una palina anche io ci mangiamo proprio così aiuta che l'effetto della coca sia più forte in noi che cosa sentiremo che tutti saremo con la bocca addormentata quando vai andando in testa ok? ma non vi preoccupate per quello normale vediamo in mezzo e facciamo una palina così un involtino di coca un involtino di coca ok? poi dopo questo dobbiamo masticare prima mastichiamo un po' facciamo un bolo e cominciamo a succhiare non è che mastichiamo mastichiamo e poi la mangiamo succhiamo più o meno 10 minuti va bene per la terra va bene per la terra per la pacciamama per la pacciamama giusto? i locali credono che dobbiamo lasciare un po' per la terra perchè la deva la terra deve anche ricevere non questo eventuale è una cosa molto peruviana bene ragazzi attenti tutti tutti abbiamo la palina? si eccoci anch'io anch'io sono pronto con il mio involtino pronti dai pacciamama pacciatata pacciatata siamo pronti per le ande siamo pronti per le ande guardate la coca dai colchettone ma dove fai? 10 minuti costava ma dove fai? ma dove fai? ma che schifo madonna ma voi siete pazzi ma come fa un po' tolbole in bocca io l'avevo già provato se l'altra volta è comunque anche in Bolivia in Peru ma tutti questi anche in Colombia sono in alto aiuta effettivamente con l'altitudine però il gusto in bocca fa veramente schifo adesso è pure grosso bisogna mandare giù con la saliva e inizia ad estetizzarsi un po' la bocca comunque se siete qua per l'altitudine provatela perché è un processo che aiuta davvero a gestire l'altitudine in maniera estremamente naturale un po' il gusto terribile queste raga invece sono le vigogne e non si riescono minimamente ad avvicinare non riescono nemmeno ad allevarle raga io c'ho ancora le foglie di coca in bocca perché siamo arrivati nel punto più alto della giornata di oggi nel Mirador de los Andes siamo a 4900 metri 2000 piano eh in pratica abbiamo fatto 05000 in 48 ore è tosto oggi ci fermiamo poco qua prima perché c'è poca vista per molto tempo poi perché veramente dobbiamo rimatarci allora raga sono salito sul bus perché certamente lo sto un po' battendo strano perché l'altra volta l'ho andato qua quattro anni fa non sono stato così male allora due sono le ipotesi o all'età perché comunque quattro anni si sentono oppure quel maledetto virus di del covid che ho preso a gennaio a san francisco che mi ha un po' colpito i polmoni perché più che altro l'unico sintomo veramente che ho che mi dà fastidio è il respiro il respiro è veramente 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 affannato la cosa mi preoccupa un po' anche in vista del del clima in giallo di settembre perché lì i metri sono 6000 vabbè non pensiamoci l'altronde ne abbiamo fatto 05000 in 48 ore praticamente e potrebbe essere anche quello vediamo domani perché domani ripassiamo di qua se domani mi sento ancora così effettivamente un po' di preoccupazione ci potrebbe essere raga è bastato scendere un po' raggiù c'è ci vai dove andiamo adesso a mangiare ci vai a ci vai si ci andiamo a ci vai lo so una battuta di merda ciao ragazzi buongiorno nuova giornata qui in perù allora vedete con tutti gli zaini eccetera ora sto correndo un attimino fuori nonostante l'altitudine perché pare che dove siamo adesso nella valle del colca stai eruttando un vulcano in questo esatto momento vediamo un po' ve lo mostro in diretta dove stai uillà che spettacolo raga che figata sta zona qua questa è tutta la valle del colca ricorda tantissimo anche per i terrazzamenti il nepal e anche ovviamente per le montagne raga oggi è una giornata veramente spettacolare c'è un solo incredibile non sto sentendo l'altitudine godo wow benvenuti al cagnon del colca allora ragazzi per questo dietro di me è la famosissima cruz del condor stiamo dominando il primion del colca uno è il più profondo di tutto il mondo e esattamente sotto di me c'è una coppia di condor e se li guardate bene eccoli lì raga due esemplari il cresta bianca vuol dire che è maschio marrone vuol dire che invece è giovane ok quindi il nero è un po' più vecchio dell'altro pensate che i condor possono vivere fino a 75 anni vivono sempre in coppia e nel momento in cui uno dei due muore l'altro non sa coppia più nessun altro condor quindi nonostante l'aspetto un po' creepy del condor è invece un grave romantico raga che animale incredibile davvero è super 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 affascinante tra l'altro le dimensioni può raggiungersi nei 3 metri di apertura d'aria andiamocci un attimo qua pazzesco comunque l'avventura non sono finita perché adesso torniamo nella varia del col andiamo a scoprire un po' di paeselli qua tipicamente andini non riuscite bene questa frase uno più bello dell'altro raga stiamo provando un frutto sancaio si chiama sancaio sembra un kiwi un dragon fruit non lo so adesso lo assaggiamo te sei già assaggiato? si è buono un po' aspro buono però qui siamo a maka cos'è sono queste mani alzate? cos'è? cosa si beve? alle 10 la mattina maka sour mentre sono luce del mattino abbiamo un gruppo di alcolizzati qui c'è la spiegazione del sancaio invece che aiuta a castrette ulcere ai gara donne mia diabete aiuta il diabete attenzione ecco la buona scusa per bere l'alcol dai e dai raga abbiamo deciso di fare la zipline del condor dopo esser stati anche alla cruz del condor siamo tutti pronti quasi quasi tutti come l'adrenalina? trema? no non trema ci vediamo in volo raga nella prossima puntata siamo arrivati sulle sponde del lago navigabile più alto al mondo scusa le galliccianti faccia mamma o faccia tappa? faccia tappa andiamo a faccia tappa? come ti faccia tappa? eeeh eeeh siamo finiti nel locale di Tull il Tull tamatta eeeh 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 eeeh